Sembra che di normale in questa vita non ci siamo neanche io e te Abbiamo sentito un pezzetto di C'è Tempo che è il tuo primo singolo Matilde, che è importante perché? Esattamente, era un pezzo che ho scritto in questi mesi, che sono stati per me un periodo in cui ho riorganizzato la mia vita l'ho ripresa un po' in mano e ho veramente deciso che la musica e la mia strada la voglio inseguire con tutta la mia forza C'è tempo, in questi giorni ho tempo, per guardarmi dentro, sistemare un po' di cose Matilde è una cantante, questo pezzo per me è stato un momento di scelta importante un momento con cui ho capito che è giusto presentarsi per quello che si è in maniera semplice e spontanea senza le pressioni che vengono da fuori, senza il filtro di quello che gli altri vorrebbero che tu facessi o che tu fossi ed è anche una canzone con cui io sottolineo il fatto che è il tempo per fare le cose che ci piacciono che sentiamo veramente nostre, c'è sempre, basta solo fermarsi un attimo, pensarci, trovarlo e utilizzarlo per fare quello che ci piace Mi piace un sacco mangiare, mangiare bene, proprio sono una buona forchetta, mi piace stare in compagnia e beh, la carbonara, la pizza L'amore lo racconto, fino adesso l'ho raccontato in chiave un po' malinconica, anche un po' arrabbiata però prossimamente prometto cose più romantiche C'è tempo, è il tuo singolo e buongiorno mattina Matilde Buongiorno 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 Grazie a tutti.